L'utente Mindhunter mi ha chiesto un video sull'agenda 2030 e questo sarà penso il video migliore al mondo per spiegare in modo semplice l'agenda 2030 perché c'è gente come Mindhunter purtroppo lui è in cerca e a caccia di mente perché così vuole capire il mondo che ci aspetta partiamo prima da questo disegno indicativo dell'agenda poi passeremo e affronteremo tutti questi aspetti dell'agenda 2030 ma come possiamo vedere già a primo impatto diciamo che diciamo che è abbastanza doloroso diciamo perché vediamo questa acqua è composta da questi due due pallette diciamo così e poi c'è questa dalla g in poi diciamo è tutta una cosa dritta che va poi a a inocularsi a penetrarsi in questa in mezzo a queste due montagne morbidi colline con in mezzo una specie di si direbbe buco diciamo sembrerebbe quasi come un treno che sta penetrando una montagna diciamo e entra in questo buco però è indeciso perché entra poi esce entra poi esce non si capisce per quale motivo è come se c'è un qualcosa che blocca questo treno che entra fino a un certo punto poi riesce poi qui vediamo sembrano dei piedi qua sembra una persona così piegata qua diciamo ammessa a 90 a pecora direbbe qualcuno e qui c'è il 2030 quindi già possiamo avere un assaggio diciamo di del dell'agenda 2030 perché come come c'è gente che si affeziona così a gli piace sentire risentire cose brutte della tv perché è una specie di droga si vede mindhunter è drogato di video dove o può darsi che lui veramente non riesce a capire questa cosa qua e infatti io sto cercando di analizzare questa agenda 2030 in modo molto scientifico e abbastanza chiaro diciamo in modo tecnologico avanguardistico specialistico per cui passiamo adesso ad analizzare questi aspetti diciamo dell'agenda 2030 per quanto riguarda la A ovviamente parleremo dell'aspetto affettivo nessuno ti amerà pagorella sarai sola come un cane fra poco in campo in campo di concentramento non hai le palle per far cazzo e quindi quello è abbastanza chiaro quello che avverrà a te a livello affettivo già vivevi in un deserto e nessuno ti ha mai amato veramente ma questa agenda 2030 cambierà questa situazione in peggio poi passiamo all'aspetto genetico l'aspetto genetico diciamo che verrà stravolto da questa agenda 2030 proprio per favorire un'entrata del treno nel tunnel più agevolata diciamo quindi a livello genetico per si mettono della dinamite qua nel questo buco per allargare il buco e fare in modo che questa posizione diciamo piaccia alla montagna così il treno può entrare più agevolmente quindi a livello genetico le cose cambieranno ovviamente in peggio poi a livello elettromagnetico diciamo a livello elettromagnetico come vediamo qui c'è questa g qua diciamo e c'è questa g che a livello elettromagnetico lavorerà elettromagneticamente in modo potente per perché questa è la base diciamo qua del di questo il treno diciamo e qui dove si regge diciamo se noi potessimo girare vero questo treno in alto noi vedremo questa è la base di tutto la base che fa da è come se fosse una di quelle locomotive che invece di stare davanti è qua e poi può spingere tutto tutti gli altri vagoni diciamo per penetrare nel nel tunnel quindi come vediamo quindi anche al per quanto riguarda l'aspetto elettromagnetico le cose cambieranno in peggio passiamo all'aspetto neurocognitivo è il coglione prima del 2020 pagorella ma quando arriveremo al 2030 dire che sarai zombie è dire poco diciamo quindi a livello un neurocognitivo diciamo tu storica storicamente non sei stata un non hai brillato diciamo e con il 2030 le cose cambieranno però ma ovviamente in peggio passiamo all'aspetto doloroso doloroso dell'agenda 2030 è doloroso 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 rosso rosso lo do so do lo do sì che lo darai lo darai anche su questo aspetto perché devi darlo perché per il semplice fatto che tu diciamo devi essere diciamo no e quindi questa situazione provoca dolori un dolore speciale diciamo che non hai mai provato prima diciamo e quindi questo diciamo e molti hanno fatto video sull'agenda 2030 spiegando le cose in modo razionale e logico ma a cosa serve se non ha nessun effetto quindi può darsi che la gente non capisca diciamo quello che può darsi che insomma non lo so non so cosa pensare so cosa pensare questa è la mia è il mio modo secondo me di presentare l'agenda 2030 quindi passi quindi come abbiamo detto anche sull'aspetto doloroso quando sarai chiuso nel campo di concentramento pecorella sarà doloroso vivere diciamo e vorrai morire quindi tutto sommato si prevede un cambiamento quindi anche sull'aspetto doloroso in peggio ovviamente passiamo all'aspetto antropologico beh sull'aspetto antropologico di logico non c'è niente l'antro purtroppo l'uomo ha fallito diciamo gli è stato dato un cervello per poterlo usare ma purtroppo non sa usarlo è quello che si merita è diciamo questa questa penetrazione diciamo di di questa di questa valanga di 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 stupidità che è quello che si merita diciamo per aver fallito diciamo qualcuno gli ha dato tutte queste capacità diciamo cognitive a mani a testa ha un corpo meraviglioso e tutto quanto ma l'uomo purtroppo ha preferito rimane bambino e non crescere e quindi questo è l'agenda 2030 for dummies è stato un po' di 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 di